Per noi i fornitori sono importanti, tant'è vero che li chiamiamo partner più che fornitori. Siamo alla ricerca di collaboratori che non forniscano tanto e solamente un prodotto o un servizio, quanto la volontà di collaborare e di crescere insieme a noi. Questo è tanto più importante perché per una scelta strategica che ormai risale a più di vent'anni fa, Gruppo Piazzetta decise di trattenere, di concentrarsi su delle attività specifiche di eccellenza quali il design, la progettazione, la ricerca e sviluppo e per quanto riguarda la produzione la ceramica. Tutto il resto delle attività sono state esternalizzate, compito in questo parzialmente agevolato dal fatto che il distretto produttivo Veneto conta numerose eccellenze specifiche che ci hanno consentito di operare questa scelta e di consolidarla negli anni. I parametri classici che guidano l'attività dell'ufficio acquisti nella selezione dei fornitori sono il costo del prodotto, inteso non tanto come mero prezzo di acquisto, ma è il costo che comprende anche il servizio, la qualità ovvero la capacità del fornitore di rispondere alle esigenze e la presenza di un servizio post vendita, ma questi sono solamente gli aspetti base, gli aspetti tradizionali dell'attività di acquisto. Oggi è sempre più importante l'aspetto della flessibilità, la capacità di adattarsi e di rispondere alle esigenze di un mondo e di un mercato che cambiano continuamente. Da qui emerge un ulteriore aspetto che è quello della propensione all'innovazione che in parte è legata alla flessibilità, ovvero la volontà di proporre cose nuove, di migliorarsi continuamente. È un aspetto quale il gruppo Piazzetta punta molto e che richiede anche ai propri fornitori. Infine, ma non meno importante, oggi dobbiamo valutare altri aspetti, che sono quelli relativi all'etica, alla sostenibilità e alla buona conduzione dell'azienda. I cosiddetti parametri che si riassumono nella cronimo ESG. È un percorso che il gruppo Piazzetta ha iniziato di recente. Il nostro prodotto potrebbe essere definito come una felice simbiosi tra gli aspetti funzionali, che sono quelli tipici di un elettrodomestico e quindi la necessità di fornire determinate prestazioni e gli elementi di design di un articolo che qualifica il nostro modo di vivere e che è inserito nell'ambiente in cui viviamo. E questo che cosa significa? Significa che noi abbiamo la necessità di acquistare prodotti prettamente tecnici, che hanno l'elettronica, la ventilazione, la parte metallica, le ghise ed infine le materie prime relative ai rivestimenti in ceramica. E il tutto naturalmente va inquadrato in cos'è il prodotto Piazzetta. È un prodotto di gamma alta, di elevata qualità costruttiva e con un alto grado di personalizzazione. Quindi una buona parte degli articoli che noi acquistiamo è progettato in modo specifico per gruppo Piazzetta. Perché? Perché tiene conto delle nostre esigenze. Un esempio tipico può essere quello del nostro sistema di ventilazione multifuoco. È una specificità Piazzetta che ha richiesto componentistica progettata in modo specifico per le nostre esigenze. E ciò ne fa un unicum nel mercato. Ma vi sono molti altri aspetti sui quali potremmo soffermarci. Ad esempio la ricerca sempre più approfondita di smalti ceramici con effetti estetici che sono unici sul mercato. Il livello elevato delle finiture delle nostre ghise che richiedono lavorazioni molto particolari e alla portata solo di aziende e di artigiani, veri e propri artigiani, che riescono a realizzare questi prodotti. Il processo di acquisto di beni e di servizi è frutto di un continuo lavoro di confronto e di collaborazione con la nostra parte tecnica, progettazione, ricerca e sviluppo e che vede anche il coinvolgimento attivo dei nostri fornitori partner. e qualsiasi componente in funzione del proprio livello di criticità viene sottoposta ad una serie di test che devono asseverarne l'adeguatezza agli standard di qualità di gruppo piazzetta relativi alle prestazioni, alla sicurezza e alle emissioni. Solo dopo che tutti questi test sono stati superati viene deliberato l'utilizzo del prodotto nei nostri caminetti e nelle nostre stufe. Questo garantisce al cliente un prodotto di elevate prestazioni e soprattutto prestazioni che sono costanti nel tempo. Ciò si traduce anche in una elevata affidabilità e in una durata di vita del prodotto. Il raggiungimento della qualità che il gruppo piazzetta richiede ai propri prodotti si raggiunge solo con un elevato coinvolgimento di tutte le parti di cui il fornitore partner è un elemento essenziale. di conseguenza noi cerchiamo di privilegiare sempre i rapporti di lunga durata. Perché? Perché la conoscenza genera uno spirito di squadra che facilita il lavoro. Tutti gli attori sono coinvolti sin dall'inizio del progetto e quindi per attori intendiamo sia noi gli acquisti la parte tecnica ed i fornitori e sono coinvolti nella progettazione nello sviluppo del prodotto sviluppando le migliori competenze di ciascuno. Questo in cosa si traduce? Diamo alcuni numeri. Oltre il 60% del fatturato di acquisto è realizzato da fornitori che collaborano con Gruppo Piazzetta da più di vent'anni. Vi sono casi in cui abbiamo dei fornitori la cui crescita ha accompagnato quella della Piazzetta sin quasi dalla sua fondazione. È chiaro che questo tipo di rapporto non si basa solo sulla fiducia sulla tradizione e sulla costanza ma viene monitorato perché le prestazioni dei fornitori e la loro aderenza ai principi Piazzetta sono continuamente monitorate in base a degli indici. Però ciò fa sì che la nostra presenza è una presenza sul territorio concreta. Gruppo Piazzetta sente fortemente una responsabilità sociale nei confronti delle realtà produttive del territorio. La prova ne è che ad esempio per quanto riguarda i lamierati metallici più del 70% del fatturato di acquisto è realizzato da aziende che sono site entro 30 km dal territorio. Questo aspetto oggi è ancora più importante alla luce di tutti gli aspetti legati alla sostenibilità e all'emergenza climatica. Perché? Perché avere una filiera corta ci rende quindi una minore distanza tra noi e i nostri fornitori ci rende non solo efficaci nel rispondere alle richieste della clientela ma implica anche una riduzione delle emissioni e una riduzione dei volumi di traffico. Grazie a tutti.